Contro la manovra a favore dei cittadini, le segreterie brindisine di CGL, CISL, UIL e UGL pronte a scendere in strada il 12 dicembre con il sit-in presso la prefettura del capologo messapico la mission protestare con forza contro la manovra varata dal governo Monti che ci spiega il segretario di CISL, Corradino De Pascalis, è destinata a ledere una volta di più quelli che sono i diritti dei cittadini. Le ragioni dello sciopero essenzialmente sono legate a questa manovra varata dal governo Monti che noi riteniamo non consegua quegli obiettivi di equità che invece erano stati programmati. La situazione del paese è molto grave, ciascuno deve fare la sua parte, i lavoratori e i pensionati sono disposti, pronti a fare la loro però appunto in un quadro complessivo di equità sociale. A margine tante le iniziative per i prossimi giorni e a Brindisi certo manca ovviamente su tutto il territorio nazionale l'obiettivo è costringere il governo a tornare su una manovra iniqua. L'obiettivo è di portare il governo al tavolo per appunto rinegoziare e ripuntualizzare tutti quelli che sono i provvedimenti che sono necessari al paese ma che devono essere gestiti lo ripeto ancora una volta con equità.